Graeme Sims è uno dei più famosi dog trainer del mondo. Noto come l'uomo che conosce il linguaggio dei cani, ha messo a punto semplici ma rivoluzionarie tecniche per capire come ragiona il nostro cane e come farsi capire da lui. Il suo metodo è basato sulla dolcezza e la pazienza, perché, sostiene Sims, educare un cane significa stabilire con lui un patto di amicizia. Il suo approccio è efficace con tutti i tipi di cani, anche quelli che sono un po' problematici perché magari hanno subito violenza, o abbandoni. Il metodo di Graeme Sims crea tra uomo e animale un meraviglioso rapporto di affetto e fiducia. La caratteristica principale di un cane che è stato abbandonato e quindi ha avuto diversi padroni rispetto a un cane che vive da sempre nella stessa famiglia è la paura, un elemento che agisce a diversi livelli e si manifesta in diverse situazioni. Il compito più difficile ma più gratificante è far sentire il vostro cane, qualunque sia la sua storia, al sicuro farlo sentire a casa. E ricordate, da un cane trovatello riceverete un amore davvero speciale, molto più profondo di quanto possiate immaginare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.